E speriamo sia un momento di sport e anche di unione tra due popolazioni che una volta, ricordiamolo, facevano parte dello stesso paese, la ex Jugoslavia. Adesso parliamo di automobilismo, parliamo di automobilismo, è partito il campionato del mondo di Formula 1 domenica scorsa in Australia, adesso si sta preparando quello che avverrà domenica a Sepanghi in Malesia, prove libere, poi ci saranno le prove, tutto da seguire ovviamente anche quest'anno sulle ritirai, lo ribadiamo. Ma noi vogliamo parlare di giovani talenti che sognano la Formula 1 e lo possono fare attraverso una formula che in qualche modo è un po' il bivaio per scoprire nuovi piloti che domani potranno seguire le orme dei vari Alonso, Hamilton, Massa e quanti altri. La Formula Renone, parliamo in studio con la coordinatrice di questa formula, Barbara Petrivelli che è ospite qui nei nostri studi e dall'altra parte del nostro studio con Valeria Cerdiello, due di questi giovani talenti, Valeria. Sì, Kevin Gilardoni, ultimo vincitore proprio nel 2012 della Formula Renault e terzo classificato all'Eurocup Megan Trophy, benvenuto. E accanto a te Luca Ghiotto, 18 anni, mamma mia quanto sei giovane, hai debuttato nella Formula Renault la scorsa stagione, sei vice campione della Formula Abarth 2012. Benvenuti ragazzi, a tra poco, Enrico. Sì, come i calciatori, al grado c'hanno il casco, almeno uno viro, c'ha la stessa capigliatura di Amsic, di Asciarà, la cresta, insomma, non si riesce proprio a rinunciare alla cresta tra i ragazzi. Ma comunque va bene così. E invece volevo rivolgermi a Barbara Petrivelli per chiedere un po' di notizie su questa nuova stagione. Ripartite quest'anno con 11 team, 40 piloti di 14 paesi. Quali sono le novità rispetto alla scorsa stagione? La novità principale, senza dubbio, è l'utilizzo di una macchina nuova, diciamo appunto una macchina completamente rinnovata. E l'altra novità, per quanto riguarda che questa macchina verrà utilizzata, oltre che nel nostro campionato, anche negli altri campionati di Formula Renault 2000. E l'altra novità che invece riguarda principalmente la nostra stagione è che dopo due anni, dove prevalentemente abbiamo avuto una serie internazionale, quindi abbiamo corso più all'estero che in Italia, abbiamo deciso di ritornare in Italia, dove abbiamo delle piste tra l'altro bellissime, e dove anche tutti i nostri concorrenti che sono stranieri avranno modo di potersi cimentare. Di potersi cimentare e soprattutto di poter gareggiare tra ragazzi che hanno tutti grandi aspirazioni per il futuro. Ecco, la domanda è questa. Il segreto del successo di questo campionato sta proprio, secondo me, al di là della vostra organizzazione, del fatto che ci sono tanti giovani talenti che sognano di avvicinarsi alla Formula 1, che è il campionato per eccellenza dell'automobilismo, e lo fanno in una prova competitiva e selettiva come quella che riguarda il Formula Renault. Sì, sicuramente diciamo che non è più un sogno di fatto, perché da quando è nato questo campionato, nella conformazione attuale con una macchina uguale per tutti, con la stessa motorizzazione, nel 2000 il nostro primo campione è stato Filippe Massa, che sappiamo dov'è, e poi tanti altri, Maldonado, Kobayashi, Raikkonen, Hamilton. Quindi di fatto oggi sempre di più i ragazzi si avvicinano da noi perché... Perché è l'ingresso principale, diciamo la verità. Passando da questa categoria non è più un sogno, ma diventa una realtà. Ad approdare. Valeria, sentiamo appunto sogni e realtà dei tuoi due ospiti. Allora Kevin, Barbara giustamente ricordava nomi di piloti che oggi sono in Formula 1. Tu l'anno scorso hai vinto, hai 21 anni, citavo il fatto che Luca fosse giovane, ma sei giovanissimo anche tu, punti già, come dire, al salto o secondo te devi ancora farti un po' le ossa, un po' di esperienza nelle serie minori? Sì esatto, ci sono stati diversi campioni che sono passati attraverso questa serie. Io ho avuto la fortuna di scrivere il mio nome sull'Albodoro, il primo è stato Filippe Massa, io sono stato l'ultimo. Speriamo di assomigliare a loro, sicuramente l'esperienza è molto importante nel nostro sport, stando in pista si acquista esperienza. Essere pronto per il grande salto non sta a me dirlo, sono i risultati che dicono quando sarà il momento di farlo, ma sicuramente darò tutto il meglio di me stesso per essere al top il prima possibile. Ce lo auguriamo. Luca invece tu corri per la prima, che tra i tanti campioni che ha lanciato, ha lanciato anche Jacques Villeneuve. Tu che cosa ti aspetti da questa stagione Formula Renault? Beh, so già che le potenzialità del campionato sono molto alte e che comunque, già comunque vedere dei nomi sull'Albodoro come Filippe Massa, Maldonado, eccetera. Infatti sottolineiamo questi nomi anche rispetto alle scuderie proprio per far capire che da qua si può partire per arrivare davvero in alto. Esatto, come portacolori della prima poter dire che con questa squadra ha vinto Maldonado, eccetera, e pure magari sentire il mio nome dopo questi sarebbe una grande soddisfazione. Diciamo, comunque sono giovane, devo fare molta esperienza ancora, nelle passate stagioni ho sempre fatto molti errori in gara, soprattutto per colpa mia, quindi quello che mi aspetto di più ora è, sì, diciamo, non ripetere questi errori. Beh, insomma, l'esperienza ti servirà anche per questo, no? Chiedo ad entrambi se, come per esempio il caso di Davide Balsecchi alla Lotus Renault, se il ruolo di terza guida potrebbe essere, come dire, ambito per cercare di partecipare alla Formula 1, visto che sembra che ci sia un pochino di, come dire, mancanza di piloti italiani. Kevin e poi Luca. Sì, esatto, sicuramente essere parte del grande circus, quello della Formula 1 è importante. Essere pilota titolare è meglio, ma rivestire un luogo di collaudatore, come il mio vicino di casa, se possiamo dire, Davide Balsecchi, che saluto, penso sia veramente importante perché insegna a noi piloti i metodi di lavoro, le prestazioni che dobbiamo raggiungere in poco tempo, visto il numero di test limitati, quindi essere parte del circus sicuramente è motivo di orgoglio per noi, per le categorie che ci hanno accolto durante gli anni della nostra carriera e sicuramente per tutte quelle aziende, quelle persone che hanno creduto da noi fin dai primi passi. Ma tu, Luca, accetteresti un ruolo da terza guida? Beh, la Formula 1, sta sempre la Formula 1 in qualsiasi caso, sia da pilota titolare che da collaudatore, quindi dire di no sarebbe difficile. Diciamo, a volte comunque anche i collaudatori sono importanti, addirittura più importanti di piloti titolari, perché nel sviluppare la monoposto all'inizio stagione, come nel caso di Davide Balsecchi, che ha sostituito Kimi Raikkonen nei primi testi di Barcellona, sì, essere titolare è comunque migliore, si ha un'immagine molto... Però diciamo, il ruolo all'interno del team è fondamentale, spesso e volentieri viene sottolineato. Prima di tornare da Enrico, vi chiedo se c'è un pilota al quale vi ispirate e quali sono i vostri pronostici per il prossimo Gran Premio che si correrà proprio questo weekend in Malesia. Poi magari facciamo vedere bene anche i vostri caschi, tu hai il numero 58 del Sitch, anche io ho visto. Sì, per ricordare. Allora, partiamo da te Kevin e poi Luca. Sì, io penso che il pilota ideale sia un mix di piloti. Penso che ci sono dei piloti forti, ma l'ideale, il top non esiste. Mischiare le caratteristiche di Kimi Raikkonen per la freddezza, Fernando Alonso per l'aggressività e di Vettel per la velocità, penso... Mix perfetto. Che potremmo riuscire ad avere il mix perfetto. Penso che la Formula 1 sia in costante evoluzione. Abbiamo visto il primo Gran Premio, nessuno dava tra favorite la Lotus, Renault, invece è stata lei a vincere la gara. Che è in vantaggio adesso anche nelle prove libere. Che è in vantaggio adesso anche nelle prove libere. Quindi penso che ci saranno sicuramente delle grandi case con delle alte tecnologie che si giocheranno fino all'ultimo questo mondiale, ma non dimentichiamoci che siamo italiani e dobbiamo, lo sottolineo, di fare Ferrari. Luca? Beh, come diceva già Kevin, da italiano, Ferrari resta sempre nel mio cuore, se si può dire così. E a quale pilota ti ispiri, se c'è? Diciamo sempre un mix di piloti. Mi piace sempre guardare i vecchi video di Ayrton Senna, che purtroppo facendo questo sport se n'è andato. Questo tema non lo tocchiamo con voi, non vi chiedo se avete paura o meno. Lasciamo perdere. Sì, comunque guardare i suoi filmati mi mostra sempre quanta determinazione avesse come facesse questo sport, l'allenamento. Se invece devo rifarmi di piloti di oggi, sempre un mix di piloti. Il fatto che, come Alonso, dall'inizio della gara, alla fine della gara, non muolli mai un giro, stia sempre al limite, ma senza sbagliare. E come stile di guida, Kimi Raikkonen, che comunque, come si è visto in Malesia, è stato quello che ha saputo sfruttare al meglio la situazione. Avete le idee chiarissime. Complimenti e in bocca al lupo, soprattutto. Grazie. Enrico. No, no, davvero, hanno le idee chiare e soprattutto mi sembrano molto determinati. Però mi rivolgo appunto a Barbara Petrivelli, perché al di là di questo, basta avere idee chiare, talento, forza, capacità, coraggio per accedere alla Formula 1. Ricordiamo che l'ultimo è stato Iarno Trulli, l'ultimo pilota italiano ad accedere alla Formula 1. E ovviamente la crisi economica incide anche in questo. Ci vogliono anche gli sponsor, diciamo la verità. Passiamo dalla poesia alla prosa adesso. Purtroppo sì. In questo sport, bisogna dirlo, non è come il pallone dove bastano un paio di scarpini, perlomeno per iniziare. Diciamo che tra gli sport è sicuramente uno dei più costosi, anche partendo dalla base, da una categoria come la nostra. Però sicuramente altrettanto anche i posti in Formula 1 non sono illimitati. Sicuramente però la determinazione, secondo il mio parere, da tantissimi anni... Non vogliamo spegnere i sogni di questi ragazzi, che sono molto determinati e molto grintosi. Però è un dato di fatto che da un po' di stagioni mancano italiani in Formula 1, e questo credo che rifletta anche un po' il momento del Paese. Gli sponsor non sono poi tantissimi, ed è chiaro che è difficile poi trovare... Ci dispiace, ma è proprio per questo che abbiamo deciso quest'anno di ritornare in Italia, e speriamo di essere noi a dare un pilota italiano a breve. Una spinta è che sia di buon auspicio. Chiedo anche a lei però, chi è secondo me il favorito per questo mondiale di Formula 1? Rimettiamoci magari alla maledizia, va. Se no, se non vuole... Abbiamo visto che purtroppo ogni gran premio succede... Soprattutto all'inizio stagione, bisogna ancora che si... Secondo me è un po' presto, non mi esprimo, perché potrei essere di parte, io lavorando per tanti anni per una casa, sicuramente... Però diciamo che ce ne sono tanti di pretendenti, da quello che abbiamo visto perlomeno in questa prima gara. Vedremo più avanti. Vedremo come si svilupperà. Grazie, grazie a Barbara Petrivelli, grazie ai nostri due amici piloti, a cui auguriamo davvero di approdare al più presto al Mondiale di Formula 1 a coronare il loro sogno. Adesso breve pausa pubblicitaria e poi torniamo per parlare di sport e economia, per parlare di quanto siano importanti nelle organizzazioni delle società di calcio, ma anche nella vita economica delle star del calcio, i social network. Subito dopo la pubblicità, qui a 90 minuti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.